Matteo Savolderi, di 28 anni, di rovetta, approssimamente partirà per gli Stati Uniti per un'interessante avventura con le tre bimeteo, giusto? Esattamente, fra poco meno di due mesi, dal 20 al 30 maggio, 10.000 km in 10 giorni nella Tornado Alley, nella parte centrale degli Stati Uniti, dove appunto i fenomeni dei tornado sono estremamente violenti e estremamente comuni nel periodo tra la primavera e l'estate. Quindi a caccia di tornadi, ma non è una cosa che può mettere anche un po' di paura? Beh, sicuramente il fenomeno è particolarmente violento, soprattutto anche le tempeste, quindi i tuoni, i fulmini, oltre appunto a queste trombe d'aria chiamate Tornado. La dotazione tecnologica che però ci porteremo dietro ci consentirà di essere in assoluta sicurezza. Ecco, prendiamo dal profilo in internet che il ruolo che Matteo andrà a ricoprire è quello del cameraman, ma Trebimeteo invece? Trebimeteo sono un informatico a tutto tondo, quindi dall'help desk per i colleghi, fino allo sviluppo software di applicazioni mobili, sistemista, aggiornamento e manutenzione al sito internet. Quindi dobbiamo immaginarvi tra un po' di tempo negli Stati Uniti su un pick-up a scorrazzare avanti e indietro alla ricerca di questi fenomeni. Esattamente, proprio seguiremo utilizzando appunto le dotazioni tecnologiche di cui parlavo prima, utilizzando i radar, i vari satelliti e le segnalazioni anche degli altri storm chaser, dei cacciatori di tornado, seguiremo appunto questi fenomeni incredibili. E quando vi hanno proposto questa avventura, qual è stata la risposta? Ma la mia risposta all'inizio, la prima è stata a che ora si parte? Ecco, quindi immaginiamo che si potrebbe anche quasi in che pagare per fare un lavoro così. Anzi, sì, esatto. Però è meglio non dirlo. È meglio non dirlo, no, assolutamente. Quindi c'è grande entusiasmo? Assolutamente sì. Sicuramente ci sarà la possibilità di poter seguire tutte le vostre avventure stando tranquillamente e comodamente a casa. Certamente. Foto e video che verranno fatti quasi in tempo reale verranno riproposte su trebimetro.com slash tornadotour, la sezione del sito appunto del Tornado Tour.